Lei come fa quando c'è lo sciopero dei benzinai a venire a lavoro? Io questo problema l'ho risolto nel 2008, quando ho deciso di non avere più un'automobile e quindi da questo punto di vista sono sereno. Il problema è un altro per me, che i mezzi pubblici in questo paese, in una città come Roma, sai quando li prendi, a volte nemmeno quello e sai nemmeno quando arrivi, perché cancellano le corse.